Oh, è un fai E straparlano di quello Hai sentito cosa ha detto Il mezzo busta a studio aperto È morto Michael Jackson Berlusca va a puttane La libertà di informazione è uguale Poi Al termine impettacca Le partite in digitale Ti danno anche la guerra Sul canale nazionale Giustificano il mezzo L'informazione è lecita Ci danno ciò che vogliono O quello che li merita Grazie a tutti